Di abilità da rivedere a Scalea. L'invito è lanciato da più parti e ad una settimana dalla petizione realizzata da un comitato spontaneo di cittadini e commercianti chiamato Libera Piazza Caloprese per una riaportura al traffico dell'arteria, le prime 300 firme raccolte sono già state presentate sul tavolo del commissario prefettizio Massimo Mariani. Promotori dell'iniziativa Claudio Guerrera, Antonio Pappaterra e Sergio Bergamo, primi firmatari della richiesta. Nei giorni scorsi anche il movimento politico locale Pensiamo a Scalea si è riunito per discutere di viabilità in seguito alla segnaletica sperimentale adottata dall'amministrazione uscente e dell'isola pedonale. Dunque inizia a palesarsi la volontà di riaprire la zona al traffico veicolare e nel frattempo che si decide in merito la raccolta firme prosegue. Questo diciamo per noi e per tutti i cittadini che mi hanno chiamato, mi hanno coinvolto in questa situazione, questa piazza in questo momento rappresenta un tappo per l'economia locale naturalmente accentuata dalla situazione, dalla crisi che c'è, che viviamo, che siamo vivendo tutti quanti. Per la maggior parte degli scaleoti la piazza isola il centro antico da quello moderno e in più in un certo senso attraverso questo blocco blocca anche in un certo modo la circolazione non solo dei mezzi ma anche dell'economia. Questo è il motivo per cui la richiesta è stata mandata, inviata al commissario Mariani. In questi giorni speriamo poi sarà anche trattata dalla nuova terna commissariale che verrà qui a Scalea a trattare il problema. Questa scelta dopo anni, cioè la scelta di isola pedonale, è diventata una scelta infelice. Oggi riteniamo che aprire la piazza sia un'alternativa buona per cercare di resistere a questa grande crisi che stiamo vivendo. In cinque giorni siamo riusciti a raccogliere 300 firme, adesso siamo sui 600, in questi giorni promuoveremo anche un banchetto lì direttamente in piazza. la raccolta continua, continuerà fino a che poi ci sarà un, diciamo, verrà trattato, verrà vagliato il discorso isola pedonale e anche viabilità del comune di Scalea, molto importante appunto proprio per affrontare la crisi.